questo è il raccolto di stamattina, il raccolto che abbiamo fatto stamattina, questo è che il cangarello che ci hanno detto è l'eternità, mia mamma, mia mamma, la mia cangarello che io la voglio cangarello, non ti mangiare da l'estero? No, non ti mangiare da l'estero, non ti mangiare da l'estero, e poi la cucchia di San Marcello che è andata per San Marcello quest'anno, vedi? Lo posso provare qui? Aspetta, è poca la roba, ma però... Ma questo è raccolto di quale giardino? Di Luizio E quale giardino? Il giardino è tutto, il giardino, ma va bene, è pieto alla zaga Vedi, vedi se c'è un giardino E tu è un giardino è pieto alla zaga E' una ponte, c'è un 80 lorini di giardino Ma allora non ti mangiare, non posso mangiare un pomaro Se mangiare un pomaro, però è stuio un bel ponte poi E' un ponte, è tutta natura E' un palme, stuio un bel ponte poi E' dolce E vedi che ti mangi E' dolce E' dolce E' dolce Poi abbiamo un c'è una scremata viola Viola che sono? È violetta Sì, non è scremata, è bianca e viola Una rosè Una rosè E qui c'è la viola? E qui c'è la viola? E che c'è la viola? E che c'è la viola? E che foste l'amere A che c'è la viola? E che c'è la viola? C'è la viola? E' foste la viola? Mi sembra? E'buon Mi sembra E' buon E' buon e tu passi in il nero è sempre tosto e tu e tu e tu e tu ancora sta mangiando e basta no però basta non è toccato perché si sta troppo tipo mangiando ma lui non è toccato 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 perché mi dimentico è toccato è anche un anno 사용are che Hebrew gli Jump e con tutti i clike non sono io Vedga cosa ma non sa è Vamos guardiamo guardiamo mamma Allora, abbiamo rimasto che ti faccio assaggiare un giorno a parte di qui. Ah, lo favorito è il tuo? Sì, lo favorito. Allora, quello che c'hai? Baccato. Baccato. Allora, la cucina è l'assaggio. Fammi vedere? L'assaggio. Questa è nata qua a volte e questa è nata qua a volte. Ah, questa è nata qua a volte? Questa è nata qua a volte c'era la carota mentre c'era il pepaccio pulito e roba l'altra. Questa è nata qua a volte. C'è nata qua. si, perché sono UN Rickista. Ah, questo è nata qua. Ci ha dato proprio a chi ti mangiano. Ci hanno come? Ci hanno trovato. Ci hanno trovato di più salvatità. Perché? Perché l'asso nella cesta è chi ci mangiano. E invece che ci sono un piso. Ah. Ci sta a caviore. E' chista, chissi che è chista. Però poi ci ha messo altri cordoni, diciamo. Ecco c'è un fulgamento, un peperone, un fenocchio, origano e quegli oli. Ecco c'è messa la carota, c'è la saccia. E' un giro, come vuoi? Non è bello. Ecco abbiamo il fico. Il fico. Perché le raccolse di là troppo, appena, appena. E c'è un po' di gelato con questo fico. C'è un gelato che è l'ultima bellezza. Quei volte eri fico e mi... Molto fico, molto fico tutto. Molto fico banane. Manco, manco. E' sta buono. E' sta buono. E' mangio tutto quello zucchero che ti va mangiando, tutti i gelateri. Vuoi dire che sei un gelateri? Scusa, va andare a gelateri, ma ti mangio un gelateri. Allora la volta ero combattente. Sì, ma per quanto? Per quanto? Però ci sembra una quantità di gelateri. C'è un gelateri. E' un gelateri. E' un gelateri. Ma io il zucchero mi piace. E' un gelateri. E' un gelateri. E' un gelateri. E' un gelateri. Se in caso di me ci aggiungo un po' di miele. Un gelateri. E' un gelateri. Ma adesso ciò che dicevo quando vuoi. Non muo. Quando muo vuoi? Non muo. Ecco, voi abbiamo raccolto. un gelateri. Un gelateri muovo sul marco. Ne suoi essere lavorati. Un gelateri. Vai la mia. Un gelateri. E ciò che ti prendela. Non, non, ma cosa ammodo? Un gelateri. Un gelateri. E che cosa? La mia fai cosa? Un gelateri giolata. Un gelateri. Un gelateri. Un gelateri giolateri giolateri. Non c'è, senza afficchi qui, un po' avanti, la mattina devo assentire. Non fanno bene la regia. E allora ti porti questa volta? Questa volta è per te. Questa è la parola. Si, c'è la carota, però questo che non è da qualità. Non è da qualità. E quella non c'è una longa che ti fa prendere. Ma non è da qualità. Non c'è quella che ti fa prendere. E la mia città è venuta a cuore. Ma non è che cosa si chiama? Non lo vuoi. Noi ho usato. Ieri ho usato la cucina. E' sembrato di aprire la porta del forno di casa. Non lo vuoi. Non lo vuoi mangiare. E' un po' di amico? E' un po' di amico. Ma non lo prendono in giù. E' tutto il mondo? Non lo dico. Ma non lo dico. E' un po' di amico? Ma non lo dico. Ma non lo dico. Ma detto questo, penso che abbiamo detto tutto. Ma ancora? C'è diritto ancora. Si, ma quello che parlano è di preparare le luigie. Non so, non so. Potessi ne parlare. Ma potessi ne parlare. Sempre lo pratico come una voce. Perché non c'è l'unità. 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 Questo non c'è l'unità. Un anno c'è l'unità che è un anno. Uno adesso vedi che qualcuno è sguardo l'umità che il caffa ma sempre con Women. Ma cosa? I non c'è l'unità. Ma cosa? Oh, oh, oh. Come si, non c'è l'unità. non sono una macchina non è una macchina non è un'altra non è un'altra non è un'altra non è una macchina perché bisogna fare però occorre però tutta la gente non viene è un'affangosto è un'affangosto volgare ma perché volgarici ma no no ho detto questo detto questo che l'ha fatto mio non mi interessa non mi chiami fratello fratello fra me e ti avrà di come dice una cosa io ti posso capire che la cassa di cil e tu posso replicare cosa non ha merito sempre cosa faccio non guardate qui per questo un problema però se tu mi prendi tre o quattro persone mi chiami che non mi interessa posso ponire il raffanculo va bene il raffanculo va bene non si parla di questo se parla di chi non mi interessa il raffanculo va bene se parla di persone non si parla di delle persone a incerto si parla di certe persone a incerto è così tu non esiste. Va bene? Ok? Vede, vede, vede. Come un po' che parò? Che lo soffi? No, un po' che parò. Un po' che parò. A buoni intenditori. Pochissime parò. E' un po' che parò. E' un po' che parò. E' un po' che parò? No, che parò. Che parò?